Sesta edizione per la Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna che ripropone in giro per la città tantissime mostre e installazioni sempre legate al concetto con cui viene inteso oggi il mosaico moderno. Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione è stata la mostra di Riccardo Zangelmi al Museo d'Arte della città. Nel segno del mosaico contemporaneo abbiamo invaso praticamente tutti i luoghi della città sia i luoghi deputati che i luoghi non deputati. Tutti i musei hanno installazioni, mostre, eventi ma hanno installazioni, mostre, eventi anche luoghi non tradizionalmente deputati alle esposizioni. Penso alla Biblioteca Classense, penso a tanti luoghi della città, le gallerie, tutti pieni di eventi. Il titolo della mostra è Forever Young, un ritornare piccoli e riscoprire certi sogni che avevamo. Sì esatto, è una cosa per me molto importante riuscire a esortare le persone. Il messaggio della mostra è proprio quello di ritornare un po' al fanciullo interiore che avevano e riscoprirlo perché a volte ci scordiamo nella quotidianità di lavoro di tutti i giorni e ci scordiamo della spensieratezza, dello stupore e di quello che provano da bambini.